Ciao una a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sardegna Tronata e oggi siamo in un video di Sardegna Tronata Vi ricordate Hercules? Vi ricordate questo catimonia? Avete presente quando lo picchiano? Ecco, cosa vedete? Queste immagini? Io vedo una forma fatica, ma passiamo al Re Leone, un grande capolatore della mia infanzia che viene spuntanato con queste due immagini molto semplici ma passiamo ad un altro capolavoro dove c'è una donna Dai, Mini e Topolino non ci puoi trovare qualcosa di male, dai!